Ciò che spinge la storia a definirsi nuovamente è anzitutto la presa di coscienza da parte degli storici del relativismo della loro scienza. Essa non è l'assoluto degli storici del passato, providenzialisti o positivisti, ma il prodotto di una situazione, di una storia. Questo carattere singolare di una scienza che dispone di un unico termine per definire il proprio oggetto a se stessa, che oscilla tra la storia vissuta e la storia costruita, subita e fabbricata, costringe gli storici, fatti coscienti di questo originale rapporto, a interrogarsi di nuovo sui fondamenti epistemologici della loro disciplina. Un passaggio dal volume Fare Storia, curato dal grande medievista Jacques Legoff, in collaborazione con Pierre Nora, apre il nostro incontro con Carlo Ginzburg, indubbiamente uno degli esponenti più brillanti e originali della storiografia non solo italiana degli ultimi decenni, che molto si è interrogato sulla sua disciplina e sul mestiere di storico. Nato nel 1939 a Torino in una famiglia ebrea e antifascista, insegnato in varie università in Italia, Francia e negli Stati Uniti. Negli anni formativi alla normale di Pisa i suoi studi sulla stregoneria e sui processi dell'inquisizione tra Cinque e Seicento sono sfociati nel volume I benandanti, che descrive il rapporto dialettico tra un complesso sistema di credenze diffuse nel mondo contadino e la sua interpretazione da parte degli inquisitori, volume nel quale già appare un vivace confronto con l'antropologia e altre discipline che segnerà tutta la sua produzione storiografica successiva. Un altro libro memorabile, Il formaggio e i vermi, tradotto in oltre 20 lingue, racconta la storia del mugnaio Menocchio attraverso i documenti dell'inquisizione che lo condannò al rogo. Una vicenda rivelatrice dei complessi rapporti tra cultura dotta e cultura popolare. All'inizio degli anni Ottanta, con indagini su Piero, una ricerca sull'iconografia e i committenti di alcune tra le opere maggiori del grande artista rinascimentale, Carlo Ginzburg inaugura con un gruppo di altri storici la collana microstorie della casa editrice e in Audi, casa editrice che pubblica anche il volume successivo, Storia notturna, una decifrazione del sabba, in cui si intrecciano storia, antropologia, linguistica, strutturalismo. Innovatore della storiografia internazionale, in altri suoi libri più recenti, Occhiacci di legno, nove riflessioni sulla distanza, rapporti di forza, storia, retorica e prova, il filo e le tracce, vero, falso, finto, tutti editi da Feltrinelli, Carlo Ginzburg ha rivolto un'attenzione costante ai problemi metodologici e ai rapporti tra verità, finzione e menzogna. Lo abbiamo incontrato nel... Lo Ginzburg siamo nel suo studio gremito di libri che occupano quasi tutto lo spazio disponibile, libri legati ai suoi studi e ai suoi interessi naturalmente, quindi arte, storia, antropologia, storia, letteratura. Quanto hanno contato queste letture in quelle che qualcuno ha definito sue invasioni di campo in altre discipline, nell'antropologia, nel volume Storia notturna, nell'arte, nel libro che le ha dedicato a Piero della Francesca, nel diritto con un altro suo volume che ha fatto molto discutere, Il giudice e lo storico e poi anche nella letteratura, nei suoi ultimi libri direi. Sì, ma mi è capitato di dire che per me la storiografia è come un aeroporto da cui si va in tante direzioni o una stazione in cui si prendono treni in tutte le direzioni, cioè non è una specie di fortezza chiusa, questo mi sembrerebbe assurdo, quindi diciamo il trovarsi al centro di discipline diverse mi pare quasi ovvio in una ricerca che non si voglia ritagliare dei limiti precostituiti, nel senso che non c'è un'armonia prestabilita fra i temi e le discipline, siamo eventualmente noi che la creiamo a posteriori, ma forse perdendo qualcosa. Il dialogo con altre discipline mi pare sempre fortificante, si imparano modi di lavorare diversi, però i temi poi sono lì nella loro complessità e poi c'è l'imparare che una delle cose più belle ci siano, quindi addentrarsi in territori sconosciuti, una volta ho parlato di euforia, di ignoranza, proprio per sottolineare questo elemento del non sapere, del trovarsi un po' sperduti di fronte a dei temi o dei personaggi di cui non si è mai seduto parlare e poi si impara. Lei, Carlo Ginzburg, si è formato alla normale di Pisa, sotto la guida di grandi maestri, Deglio Cantimori, Arsenio Frugoni, Armando Saitta, Augusto Campana, Arnaldo Mobigliano. Sin da giovane studente ha avuto il privilegio di dialogare con grandi intellettuali del Novecento. Questi maestri in che misura hanno segnato il suo mestiere di storico? Molto, naturalmente ci sono stati questi, poi ci sono stati molti altri, ho continuato a incontrare persone che mi hanno insegnato molto, anche quando ormai non ero più giovanissimo e questo penso sia stato un privilegio. Le persone che lei ha elencato erano persone molto diverse tra loro, alcuni non si frequentavano. Diciamo che questa diversità era un elemento di sfida, di provocazione, così tutte le persone che lei ha elencato non ci sono più e con alcuni di loro il dialogo continua, continua molto fitto. Queste sono persone che ho incontrato fisicamente, poi ci sono quelli che ho incontrato sui libri, Mark Bloch, oppure io sono andato, ormai avevo più di 30 anni, sono andato negli Stati Uniti a Princeton e lì sono stato tre mesi, ho partecipato a un seminario che era diretto da Stone, Lawrence Stone, e ingenuamente pensai, era la mia prima visita negli Stati Uniti, che era un tipico seminario americano, in realtà non lo era affatto, era tipicamente inglese, molto diverso da altri seminari che poi frequentai in America e appunto cito questo perché sì, non ero più uno studente, ma ho avuto la sensazione di imparare moltissimo, uno stile di discussione soprattutto che in realtà era molto diverso da quello che avevo appreso a Pisa. Quindi moltissimi incontri hanno segnato il suo lunghissimo mestiere di storico, un mestiere che lei esercita da ormai un quarantennio, dunque anche di più naturalmente, ma tornando a questi grandi maestri, primi maestri, si ha l'impressione che lei sia andato oltre l'insegnamento di questi suoi maestri, rompendo in un certo senso con la tradizione e imboccando la via dell'interdisciplinarità in un momento in cui ancora pochi la praticavano, oggi è ormai divenuto un termine molto di moda, anche in ambito accademico. Io trovo che è normale che uno studente vada oltre quello che ha imparato, diciamo, e questo è quello che tutti coloro che insegnano dovrebbero augurarsi, penso. Certo, alla fine degli anni 50, il dialogo tra storici e antropologi effettivamente non si era ancora manifestato e a sollecitarmi in quella direzione c'è stato innanzitutto il tema che avevo scelto, cioè i processi di stregoneria. Lì il dialogo con gli antropologi era in qualche modo necessario, soprattutto se, questo era meno ovvio, si decideva, come io decisi subito, anche al buio diciamo, di cercare di occuparmi delle vittime della persecuzione, delle vittime dei processi di stregoneria, degli imputati e delle imputate. E ricordo che appunto ero a Pisa e il mio amico Giulio Rebschi mi fece vedere un libro che era appena uscito, era Antropologie Structurale di Claude Lévi-Strauss, mi non l'avevo mai sentito a nominare, era il 59 mi pare, e lessi questo libro, mi sono trovato in un mondo intellettualmente molto diverso da quello che conoscevo, e questo lungo dialogo con gli antropologi, sì, mi ha segnato molto. Nel caso della storia dell'arte c'era un vecchio amore per la storia dell'arte, vecchio, diciamo che era cominciato quando ero ragazzo, mi sarebbe piaciuto fare il pittore, ho cercato di fare il pittore per qualche tempo da ragazzo, e comunque mi è rimasto questa passione per la storia dell'arte, soprattutto per la pittura, e quindi sì, è un campo di ricerca che mi sollecita molto. L'ultimo libro che è uscito mio, sono nascito in francese, si chiama Peur Reverence Terror, e sono quattro saggi di iconografia politica, e posso anticipare che ne usciranno la versione italiana con lo stesso titolo, ma con un saggio in più, quindi saranno cinque saggi di iconografia politica. Immagino da Feltrinelli? No. No. Ci può anticipare dove uscirà? Uscirà da Adelphi. Dicevamo che lei dunque esercita il mestiere di storico da oltre 40 anni, mestiere sul quale lei ha condotto anche una profonda riflessione in vari saggi, ricordo almeno ai nostri ascoltatori, miti, emblemi, spie, morfologia e storia, un volume pubblicato come i primi da Einaudi. Nella sua originale ricostruzione del paradigma indiziario, lei dice che lo storico è paragonabile al medico che utilizza i quadri nosografici per analizzare il morbo specifico del malato singolo. Quanto, come quella del medico, la conoscenza storica è, come lei ha scritto, in diretta indiziaria congetturale? Sì, lei sta accennando un saggio che uscì per la prima volta nel 79, in un volume pubblicato in Einaudi, Crisi della ragione, era stato curato dal mio amico Giorgio Gargani, Aldo Giorgio Gargani si firmava, e un volume fortemente prisiano, si chiamava Crisi della ragione, era una riflessione retrospettiva, in qualche modo anche prospettiva, cioè ragionavo sul mio modo di lavorare, certo era ancora abbastanza agli inizi, però mi era apparso che si fosse delineato un modo di lavorare, e cercavo di capirne le ragioni, e quindi costruire una sorta di traiettoria, di genealogia anche, e così è stato un saggio che mi ha segnato molto, per questo dico che c'è un elemento anche prospettivo, e è un saggio appunto che in realtà proponeva questo termine, nel sottotitolo Paradigma Indiziario, che poi non ho più usato per moltissimo tempo, perché mi dava fastidio l'idea di essere associato a una specie di logo, come si direbbe oggi, però questi degli indizi è qualcosa su cui ho continuato a lavorare, e su cui lavoro proprio ancora in questi giorni in realtà. Quindi non ha mai abbandonato questo paradigma? Diciamo che non ho mai lavorato, se si vuole non ho mai abbandonato questo paradigma, non ho abbandonato un certo modo di lavorare, anche se l'idea è quella di saggiare questo modo di lavorare, su temi molto diversi, quindi direi che sì, c'è una radice soggettiva, in quella che lei ha chiamato interdisciplinarità, cioè forse perché, me ne sono reso conto recentemente, c'è stata una maturazione relativamente precoce, in termini di capire cosa volevo fare, e quindi per sfuggire al rischio, diciamo, della ripetitività, ho cambiato continuamente temi. Quindi c'è una continuità, ma in una discontinuità di temi. Del resto lei ha vissuto anche un clima culturale particolarmente vivace e interessante, vicino anche alla casa editrice Einaudi, sua madre scrittrice, il padre celebre filologo, quindi indubbiamente questi elementi hanno segnato anche il suo percorso successivo, immagino. Sì, sì, certamente, certamente questo è qualcosa che mi ha segnato in profondità, e certo sì, il clima di Einaudi allora, quello che era allora, certo mi ha segnato molto profondamente, ma i tempi cambiano molto, e uno si trova di fronte a interlocutori diversi, a problemi diversi, però certo c'è questa continuità, nel senso che è un modo di lavorare che viene messo alla prova in contesti molto diversi. In un altro suo libro, di cui abbiamo parlato ai nostri microfoni, anche il filo e le tracce, ha ricordato professor Ginzburg il suo debito con filologi romanzi, e citando Jacobson, ha ricordato la definizione della filologia come l'arte di leggere lentamente. E qui però c'è una correzione da fare, perché non sono solo i filologi romanzi, in realtà questa frase è una frase di Nietzsche, e nella sua prolusione, quindi diciamo, allora Nietzsche era un filologo classico, e poi va bene, è diventato un filosofo, ma pur senza perdere, diciamo, degli elementi della sua radice, della sua originaria formazione filologica, però questa definizione di filologia certo mi pare molto bella, a questa idea del leggere lentamente. Penso che mi attrae molto, anche perché ho una tendenza a correre, alla rapidità, e quindi è una rapidità che va contrastata, altrimenti se no si combinano dei disastri, si fanno degli errori, si rimane vittima delle prime impressioni, quindi penso che sia questa combinazione di velocità, e però tornare sui propri passi, e quindi appunto la lentezza. Allora, grande debito verso la filologia, e in particolare verso questa arte di leggere lentamente, che applicata ai testi non letterari, le ha consentito di recuperare voci deformate, distorte da pressioni, le voci, come diceva prima, delle vittime, che di solito sono documentate solo dal punto di vista dei vincitori, e lei, professor Ginzburg, per discendenza ebraica e scelta intellettuale, si è sempre identificato con il mondo delle vittime, facendosi naturalmente mediatore tra il mondo degli sconfitti e noi contemporanei. Quanta cautela richiede nell'utilizzo degli strumenti di traduzione questo lavoro? E questa è una buona domanda. Diciamo che, certo, io sono partito da quest'idea di cercare di cogliere queste voci delle vittime, e c'era indubbiamente una, come dire, una forma di contiguità emotiva con le vittime. Quello di cui mi sono reso conto a poco a poco è stato che, tanto, questa impresa era difficile perché lavoravo con delle fonti, o su delle fonti che erano prodotte dai giudici, dagli inquisitori, e questo implicava delle forti distorsioni, anche se il tema a cui ho dedicato il mio primo libro, I benandanti, era un tema in cui c'era come uno scarto fra i giudici e le vittime, cioè gli imputati, quindi i giudici non capivano quello che dicevano gli imputati, erano colti di sorpresa. Un fenomeno, da un certo punto di vista, eccezionale, che però mi pare, ho cercato di riflettere su questo per molti anni, era possibile partire da questo tema per cercare di porsi un problema più ampio, quello delle origini del sabba stregonesco, o perlomeno dello stereotipo inquisitoriale del sabba stregonesco. Devo dire che col passare del tempo mi sono reso conto che bisognava capire gli inquisitori anche e mi sono reso conto che accanto a questa contiguità emotiva con le vittime c'era una contiguità, devo dire, mi è parsi inizialmente molto inquietante, una contiguità intellettuale tra il lavoro che faceva e quello degli inquisitori. E ho scritto un saggio che si chiama L'inquisitore come antropologo, in cui appunto, un titolo un po' paradossale, L'inquisitore come antropologo, L'inquisitore come storico, io come inquisitore, c'erano delle implicazioni di questo genere su cui ho cercato di ragionare. Quindi l'idea di vedere le due facce della situazione, ma non semplicemente come due facce giustapposte, ma come facce che si intrecciano in una tensione anche, cercare di capire come lavoravano gli inquisitori, per capire appunto le risposte degli imputati. Torniamo dunque al suo iter, a questo lungo suo mestiere di storico, a cavallo tra gli anni 70 e gli anni 80 del 900. Nasce in Italia, in opposizione ai grandi sistemi di analisi e interpretazione marxista, struttural funzionalista e quantitativo della scuola francese dell'Annal, un nuovo orientamento storiografico che si afferma con il nome microstoria. Lei è stato e ancora caposcuola riconosciuto in tutto il mondo di questa tendenza storiografica che ha dato origine a lavori molto originali e interessanti. Quali segni ha lasciato quell'esperienza nel mestiere di storico, secondo lei? Sì, caposcuola no. Cioè questo era un gruppo di cui facevano parte varie persone, non c'erano caposcuoli, non c'è stata neanche una vera scuola. Cioè è stata una discussione che ha lasciato delle tracce sulla scena internazionale. Oggi c'è un network di microstorici che è fondato da uno storico ungherese e da uno storico islandese. Io devo dire che sono ancora affezionato a questo progetto e qualche anno fa ho scritto un saggio che si chiama appunto un esperimento di microstoria sopra un personaggio di Neuchatel, Jean-Pierre Pury, che è finito poi negli Stati Uniti, in South Carolina. E così sono partito da questo personaggio per pormi dei problemi, ho addirittura intavolato una specie di discussione metaforica tra Marx e Weber, partendo proprio dal caso di Pury. E quindi su questo tema della microstoria continuo in realtà a riflettere. Cioè penso che sia un progetto che è ancora vivo, che può essere sviluppato in molte direzioni interessanti. Allora, mentre lei stava per essere rinchiuso entro la formula del caposcuola, che lei comunque rifiuta, di una tendenza alla microstoria, proprio in quel momento venne alla luce la sua straordinaria avventura intellettuale della storia notturna. Quindi possiamo leggere il suo percorso come, lo abbiamo evinto anche dalle sue parole, come continuamente aperto a nuovi stimoli, a nuove avventure intellettuali. Sì, diciamo, qualcuno in realtà ha letto Stora Notturna come un libro di microstoria, un po' paradossalmente, ma qui bisogna soffermarsi un momento su questo termine microstoria, che non è legato, diciamo, alle dimensioni piccole dell'oggetto. Il micro è il microscopio, lo sguardo ravvicinato, analitico, intenso. Allora, certo, invece, in quel caso, di Stora Notturna, l'ottica, insomma, il campo di indagine è enorme, però esaminato attraverso, cioè un filo molto preciso. Enorme perché ho proposto di indagare le origini dello stereotipo del sabba, delle streghe, in un contesto euroasiatico. E questa è stata un'impresa così a cui, beh, diciamo che ci ho lavorato per moltissimo tempo e ho continuato a pensare che non ce l'avrei fatta. In effetti, dopo un libro che mi era costata tanta fatica, ho sentito il bisogno di scrivere dei saggi, cioè di vedere, esplorare la forma saggio e anche cercare di vedere dei risultati in un tempo più breve, cosa che ho continuato a fare. Ma, chissà, mi piacerebbe ancora scrivere. Come diceva prima, ma non si è ancora fermato nei suoi libri, il professor Ginzburg lei ha avuto naturalmente anche un interesse molto forte per la dimensione narrativa della storiografia presente sin da Il formaggio e I vermi, che non si limitava a ricostruire una vicenda individuale, ma anche la raccontava. Forse anche da qui viene lo straordinario successo di questo volume tradotto in innumerevoli lingue. quanto è importante, secondo lei, la dimensione narrativa nel mestiere di storico? Ma è assolutamente centrale, nel senso che anche un saggio di storia quantitativa racconta qualcosa. Diciamo che io ho avuto il senso di essere coinvolto in un progetto narrativo fin dal mio primo libro I benandanti e poi certo nel libro che lei ha menzionato. Ma direi che un elemento narrativo c'è anche, almeno mi pare, nei saggi che scrivo, anche se non c'è al centro un personaggio, come nel caso del formaggio e I vermi. Cioè la narrazione, mi pare, un elemento costitutivo, non esclusivo però naturalmente, del mestiere dello storico. In anni successivi mi sono trovato a discutere e a polemizzare con chi, puntando su questo elemento narrativo, tendeva a negare o ha negato la possibilità di tracciare un confine rigoroso tra narrazioni di finzione e narrazioni storiche. E questo mi pare assolutamente da rifiutare. Però su questo progetto polemico, cioè contestare questa tesi, ho lavorato molto. Sì, adesso il vento è cambiato, quell'avversario mi pare meno rumoroso, meno presente. Diciamo che le domande restano, anche se le risposte che questi postmodernisti davano mi parevano poco interessanti. Professor Ginsburg, per uno storico che come lei ha attraversato tutta la seconda metà del Novecento, l'epoca che vede la fine delle ideologie, ci sono ripensamenti sulla condizione del lavoro storiografico che all'età delle ideologie è stata così in fondo strettamente legata? Ma io alla fine delle ideologie francamente credo poco. Cioè alcune ideologie, come sempre succede, perché le ideologie sono come gli uomini mortali, anche se hanno magari una vita più lunga, diciamo molto più lunga, del singolo individuo, ma le ideologie sono morte, altre ideologie sono vive o risorgono, abbiamo nazionalismi, l'ideologia del libero mercato, pare che siamo attorniati dalle ideologie. Non mi pare che il campo sia sgombro dalle ideologie, lo direi proprio. Quindi penso che il lavoro dello storico come dire, si nutre di domande che possono essere suggerite anche dalle ideologie, però deve poi mettere alla prova queste domande sui documenti, cercare di provare le proprie affermazioni. Quindi le ideologie diciamo nutrono il lavoro dello storico e tenziamente anche lo accecano. Quindi è in questo dilemma che ci si muove, in questa tensione. Attualmente molte insidie minacciano lo storico di professione, un mestiere che alcuni considerano addirittura una polverosa eredità di una casta inutile. Allora ci possiamo porre problemi come questo largo consumo della storiografia, non solo sul mercato editoriale ma su tutti i mezzi di comunicazione di massa, l'avvento dei social media con le loro storie e controstorie, la riduzione della storia nei programmi scolastici, l'apparente deprofessionalizzazione che lo studio della storia attraversa persino nei percorsi formativi delle università in quei caratteri costitutivi che un suo maestro Mark Bloch riservava al mestiere di storico. Condivide questi timori. Lei ha menzionato naturalmente dei fenomeni molto contraddittori. Sì, sono veri, si contraddicono la vicenda, non è che vanno in un'unica direzione, quindi c'è appunto il largo consumo, ci può essere l'impazienza nei confronti del lavoro lento per l'appunto degli storici, ma però anche queste cose sì, diciamo, esistevano anche in passato, certo i media sono diversi, adesso sono altri in parte, ma l'importante però è di far fronte a queste sfide, cioè io non credo che così in passato le cose fossero migliori nel senso che gli storici sì, gli storici hanno avuto diciamo certamente pensiamo alla prima metà dell'Ottocento un momento di grande prestigio anche sociale è vero, ma insomma io non sarei l'ultimo a rimpiangere una situazione del genere. Diciamo che il mestiere è lì che cambia, cioè basterebbe pensare appunto alla cosiddetta globalizzazione cioè diciamo il fatto che il mondo sia da un lato lacerato da tensioni ma dall'altra parte unificato da una serie di fenomeni a cominciare naturalmente dai mezzi di comunicazione questo ha cambiato anche il lavoro dello storico ma diciamo è una sfida io penso che dire che il mestiere dello storico è lo stesso sarebbe assurdo dire che ha perso la propria ragione d'essere sarebbe altrettanto assurdo. D'altra parte lei è sempre stato aperto come dicevamo a innumerevoli sfidi intellettuali qual è a suo avviso il campo di studi storici oggi più promettente più diciamo interessante più dinamico se ne esiste sì questa domanda mi era stata rivolta in passato io sempre col senso di dire una cosa un po' paradossale dicevo la storia politica la storia politica che diciamo è stata identificata con la storia tradizionale eccetera e certamente si può scrivere come un'infinità di altre storie in maniera tradizionale potrebbe però essere aperta a degli esperimenti straordinari se riuscissimo a capire meglio come poi i meccanismi politici nel senso più lato del termine quindi certo politica politica sociale vedendo tutto questo in un intreccio e cercare di capire come va il mondo quindi politica in un senso così lo dico appunto paradossalmente perché mi pare assurdo naturalmente l'idea che la storia politica sia di per sé una storia vecchia tradizionale per nulla ma è certamente una storia da reinventare questo non c'è dubbio come anche non so la biografia eccetera eccetera prima di congedarci professor Ginzburg un'ultima domanda alla quale in parte ha già risposto ci sono altri libri che attendono i suoi lettori sì beh però forse questo è meglio parlare comunque è la cosa a cui sto sui progetti diciamo devo andare adesso in Guatemala dove tra poche settimane dove è stata istituita una cattedra Mark Bloch e allora mi sono chiesto di inaugurarla e quindi ho scritto un saggio lo sto proprio ultimando in queste ore possiamo dire e quindi andrò lì partendo a Mark Bloch per ragionare sul mestiere dello storico grazie a tutti